la sop turca ha completamente incollato i telespettatori al piccolo schermo tra dinamiche appassionanti e colpi di scena cosa succederà nella puntata di domani endless love è la sop più seguita del momento le puntate vanno in onda da diversi mesi e ogni appuntamento è diventato ormai imperdibile dopo il successo di terra amara non è stato semplice tenere alta l'attenzione del pubblico endless love ha però dimostrato di possedere tutti gli strumenti necessari per poter sfondare kemal e nihan sono i due protagonisti il racconto della loro storia d'amore è sempre più avvincente come ogni sop turca anche qui il dramma non smette di essere al centro delle dinamiche più importanti emir è l'antagonista per eccellenza sposato con nihan le prova tutte pur di tenere stretto a lui la donna quest'ultima occhi solo perché mal l'uomo che le ha stravolto la vita la scelta di sposare emir si è basata solo su ragioni ben precise ovvero la volontà di salvare la sua famiglia dalla rovina endless love emir pronto a tutto pur di avere sotto controllo nihan cosa le ha proposto nelle puntate precedenti abbiamo assistito ad una fuga romantica di kemal e nihan i due non riescono più a reprimere il sentimento che da tempo ormai è parte centrale dei loro pensieri emir però non appena ha scoperto il fatto ha subito attivato un piano per trovarli in assenza di kemal ha costretto la moglie a fermare ogni cosa se la donna non l'avesse fatto per il suo amato si sarebbe messa molto male il buon protagonista però da subito dubitato di emir quando la sua amata ha interrotto la fuga questo amore così passionale non riesce a trovare la chiave giusta per fiorire il pubblico non vede l'ora di assistere sperando che ci sia ad un romantico lieto fine ma arriviamo al dunque cosa succederà nella puntata di domani emir proporrà a nihan di lavorare in società con lui a capo di un'iniziativa benefica l'uomo è pronto a tutto pur di tenersela stretta di sicuro averla sotto controllo al lavoro aiuterebbe il loro rapporto la protagonista avrà però una paura quella di poter incontrare kemal da un momento o l'altro questo è un periodo molto difficile per lei il ritorno a casa di emir è stato obbligato e la lontananza dal suo amato la fa soffrire molto riuscirà ad essere finalmente libera e felice sono ancora molti i colpi di scena che appassioneranno i telespettatori endless love è un vero gioiellino mediaset e ogni settimana questo viene ampiamente dimostrato per non perdervi nemmeno un dettaglio l'appuntamento è ogni pomeriggio su canale 5